Chiaragalli, 5 ottobre 14, qualificazioni tra l'altro da un po' a 2, c'ho scritto il pezzo, categoria 1, giudice Lorenzio Patri, Zionato, 5 ottobre 14, qualificazioni tra l'altro da un po' a 2, c'ho scritto il pezzo, Grazie. 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 Ok, grazie. Vai, ciao. Ok, grazie. Dai. Vai. Dai! Cazzo. Grazie. 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 Grazie.